Il ruolo della banca locale è quello della conoscenza del territorio e delle persone che lo vivono, un ruolo che deve comportare raccolte ed investimenti in loco, un ruolo che ultimamente la banca di Teramo, secondo l'associazione Robinhood, non sta adempiendo in quanto interessata non al servizio tipico della banca di credito cooperativo ma a fare utili con performance finanziarie. Una situazione che comporta rischi abbastanza elevati di questi tempi, vedi il caso della Tercas, una situazione che ha preoccupato alcuni azionisti della banca di Teramo che hanno deciso così di costituire un comitato tramite l'associazione Robinhood e composto al momento da quattro persone legate al mondo dell'imprenditoria teramana per rappresentare i soci inascoltati, trovare punti di incontro e di dialogo con i vertici dell'istituto di credito e in casi più gravi denunciare eventuali anomalie. La banca di Teramo, così come tutte le banche che hanno una caratteristica locale, dovrebbe avere un occhio attento e una flessibilità del territorio, sul territorio che è riferito. In pratica ci sono dei segnali per cui si parla di fare degli utili, ci sono delle situazioni di azionisti che pur avendo un quote di azioni significative magari gli vengono fatti gli atti per somme inferiori, insomma c'è una situazione, chiamiamola poco chiara, per cui dei cittadini azionisti, clienti di questa banca ci hanno chiesto di supportarli con il nostro ufficio regale, della nostra struttura e hanno creato questo comitato perché vogliono avere risposta e fare chiarezza su questi aspetti. Quali saranno quindi le vostre prossime azioni? Intanto in questa fase si raccolgono le attenzioni, vediamo di raggruppare per tematiche le problematiche che ci sono e poi le proporremo alla banca e chiederemo delle risposte alla banca.